Questa è una città con enormi potenzialità, davvero enormi potenzialità nella gente, nel come è la città, nella sua posizione anche geografica, è una città che perde molte occasioni. Potrebbe essere molto meglio probabilmente, ma noi dobbiamo guardare all'aspetto positivo di cos'è una città come Messina, una città importante, una città metropolitana, soprattutto una città dove ho la sensazione che ci sia voglia di progredire e questo io penso sia un valore che noi dobbiamo aiutare a concretizzare. La sua procura ha inferto colpi, oserei dire, mortali alle organizzazioni mafiose, sicuramente molto duri. In un esperimento fatto alla chiesa del Dazio, che sta in un quartiere molto particolare, quello di Giostra, che lei sicuramente conosce bene, hanno messo un manifesto, il gruppo Scout, con scritto che cos'è la mafia? Ogni bambino anonimamente scriveva un suo pensiero. Ebbè è scomparso una scritta, la mafia è la giustizia dei poveri. Che sensazione le dà una scritta del genere fatta da un bambino? Mi dà la sensazione che c'è moltissimo da lavorare, ma questo non è tanto un lavoro della procura della Repubblica, che pure il suo lavoro lo deve fare, perché io penso che quella giustizia a cui faceva riferimento il bambino, sbagliando tutto nell'identificare chi quella giustizia deve rendere, non è tanto la giustizia dei tribunali, ma la giustizia dell'equità sociale, la giustizia che sta scritta nella nostra Costituzione e che non riguarda soltanto i magistrati, ma tutti i cittadini. Fino a che un bambino scrive quelle cose pensando che la giustizia e quindi il bene comune possa essere rappresentato dalle organizzazioni mafiose, beh questo è un segno che noi dobbiamo ancora lavorare tantissimo. Noi la procura della Repubblica di Messina, ma noi tutti i cittadini onesti e per bene di questa città, per fare sì che non ci siano più bambini che scrivano di quelle cose. Cosa augura ai messinesi, a Messina per il 2018 che sta per arrivare? L'augurio è l'augurio che viene naturale per tutti, cioè di migliorare, di stare bene e di essere felici, questo è chiaro. Io però posso anche assicurare un'altra cosa, che anche per il prossimo anno lo sforzo che la Procura della Repubblica di Messina farà per affermare la legalità, che è uno dei suoi doveri costituzionali, sarà massimo. Noi faremo di tutto perché i cittadini di questa città che abbiano subito dei torti di qualunque natura vengano riparati perché i reati vengano scoperti e vengano perseguiti.